Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerous, qui sono Rob e oggi torniamo con le guide su Escape from Tarkov aggiornate all'edizione 12.12 del gioco. Queste nuove guide saranno un po' più approfondite, particolari, prenderanno e terranno conto anche dei vostri feedback che mi avete espresso in passato. L'idea quindi è sempre quella di rivolgermi verso i neofiti, coloro che affrontano il gioco per la prima volta o tipo al secondo wipe o comunque hanno a che fare con le quest all'interno delle loro prime esperienze. Durante le ultime patch alcune quest hanno subito dei rework e quindi siamo qui oggi per resettare e refresciare anche le guide che abbiamo su questo canale. Non ve lo nego, fare queste guide è veramente complesso per un semplice fatto, non faccio solo questo di lavoro. Per dare quella giusta firma, quella dose di approfondimento che contraddistingue questo canale ci vuole tempo. Mi dispiace farvi aspettare molto ma spero gradirete il risultato che si può ottenere in modo più chiaro e coinciso possibile. Fatta questa premessa, come al solito vi invito a supportare questo canale, iscrivetevi, condividete il video, seguitemi in live su twitch all'indirizzo twitch.tv e ora iniziamo con una delle quest più vediose in assoluto. Il primo video di oggi quindi sarà shortage e abbiamo a che fare quindi con Elvira, la terapista. Il video che seguirà, come ho detto all'inizio, tiene conto dei vostri feedback. E quali sono i vostri feedback? Principalmente volete vedere il ride intero, senza fast forward, senza eccessivi tagli e con delle chiare descrizioni della location, che cosa si ha bisogno nel caso di chiavi, dove cercare, cosa guardare. Ho fatto questa guida tenendo proprio a mente questi hint che mi avete dato in passato. Pertanto signore e signori, andiamo alla ricerca di Salewa su Customs. Perché Customs? Customs, beh, è praticamente la primissima mappa che ci troveremo ad affrontare all'interno di Tarkov. Questo perché all'interno di Customs la maggior parte delle missioni fondamentali prende vita. Dovrete veramente fare una marea di quest all'interno di questa mappa. Oltre a questo ricordiamo anche in maniera molto curiosa che Customs è stata la prima delle due mappe disponibili all'interno della primissima alfa del gioco. Infatti Customs inizialmente era conosciuta come Big Map, mentre Factory era conosciuta come Small Map. Customs ha ricevuto varie modifiche e ampliamenti. Molte delle zone oggigiorno hanno dei nomi rinnovati e modificati per identificare appunto il luogo in cui si sta andando all'interno della mappa. Quella,, chella passata come pepperare appunto con un spattato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti